Segui le istruzioni e in pochi semplici gesti potrai creare il tuo video di presentazione perfetto. Per prima cosa devi avere una webcam e abilitarla all'uso. Ora sei pronto a iniziare. Mettiti alla giusta distanza dalla webcam, né troppo vicino né troppo lontano. Ecco, questa è perfetta. Controlla che lo sfondo dietro di te sia ordinato e non troppo affollato. Hai due minuti, racconta chi sei, le tue passioni, i tuoi hobby e perché vuoi entrare nella squadra BNR. Se pensi di non essere stato troppo convincente puoi interrompere il video, riguardarlo e nel caso iniziarne uno nuovo. Oppure puoi approvarlo e in un secondo momento sostituirlo con uno più aggiornato. Che aggiungere in bocca al lupo.